A questo punto presentiamo un'altra ospite, forse qualcuno di voi la conosce perché è stata qui anche l'anno scorso, è una pianista americana, Stephanie Trick, è una specialista dello strada del piano, ma non fa niente, The Neuser, il brano si chiama Pigrim Score, Stephanie Trick. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.